Freschi o secchi lavorati o al naturale, i fichi l'hanno fatta da padrone nella sagra organizzata a Miglionico, centro del materano, proprio per far conoscere ed apprezzare il frutto recentemente riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole come prodotto agroalimentare tradizionale. Un'intera giornata organizzata dalla Proloquo, il patrocinio del comune, del Galbra Danica e dell'APT di Basilicata nella suggestiva corte del castello del Malconsiglio per celebrare il fico indiscusso sovrano delle campagne meridionali, coltivato in modo tradizionale ma preparato per la gioia dei golosi in modi davvero originali. Allora il fico di Miglionico ha delle caratteristiche molto particolari, sarà dovuto alla composizione del nostro territorio, noi praticamente Miglionico anticamente veniva chiamato pappa columbriedi, cioè i mangiatori di fichi, ecco la nostra tradizione della produzione di fichi secchi risale a tempi proprio antichi. Agli stand che hanno offerto i visitatori dolci, gelati, biscotti preparati con miele di fico si sono affiancati quelli dedicati alle lavorazioni artigianali miglionichesi. Le ricette sono parecchie, comunque la ricetta quella proprio di Miglionico sono con le mandorle, finocchietto selvatico e limone non trattato, poi ci sono anche i biscotti che si fanno nel picotto.